Stop alle auto che sfrecciano a velocità eccessiva sulla Napoleona. Il comune è pronto a installare un autovelox fisso sulla strada, teatro spesso di incidenti. Volevo comunicare, e questa è una novità, nel senso che in via Napoleona la relazione da parte degli uffici e della polizia locale è arrivata. Quindi il progetto di andare, di procedere in un rilevatore di velocità che sanzioni in automatico sta arrivando. Arrivata dunque la relazione tecnica, l'amministrazione punta a installare l'apparecchio il prossimo anno. Dobbiamo rivolgerci alla prefettura, ma è una cosa che voglio fare nel 2023, è uno degli obiettivi che abbiamo dato al comando.